Cinquina prenatalizia per il Baranello su un petacciato volenteroso ma poco incisivo. Il premio per la quaterna va a Paolo Di Paolo, mattatore assoluto del match, che rilancia i padroni di casa verso la zona salvezza distanziando una rivale diretta. Bastano quattro minuti al Baranello per sbloccarla. Azione personale di Di Paolo dalla destra, sinistro radente dal limite ed è 1-0. All'undicesimo, chance da corner per il petacciato. Colonna batte al volo ma fuori bersaglio. Un minuto dopo, contatto in area giallonera tra lo stesso Di Paolo e Colonna, ma per l'arbitro Izzo Di Segno è tutto regolare. Poco male perché il numero otto Baranellista si rifà con gli interessi al quattordicesimo. Pallone telecomandata a mezza altezza nell'angolo lontano ed è 2-0. A sedicesimo, Zullo ci prova da calcio piazzato ma sedile c'è. Ma al ventiquattresimo il Baranello triplica il bottino, discesa di Cappelletti che offre a Di Paolo che di precisione insacca in buca ad angolo per il 3-0 e la tripletta personale. Al ventisettesimo Cappelletti circa gloria dalla distanza siderale. Supera sedile ma non il palo per il possibile 4-0. Nel finale di tempo si fa vedere il petacciato. Diagonale di Colonna a Manocchio si distende e para. Nella ripresa il copione non cambia e manco a dirlo Di Paolo al secondo minuto si trova tu per tu con sedile ma calcia sul palo. All'undicesimo Di Tullo prova a scuotere il petacciato con questo pallone radente che attraversa tutta l'area piccola. Solo brividi per Manocchio. A sedicesimo però è ancora Di Paolo a mettere tutti d'accordo. Azione corale del Baranello con filtrante finale di Colalillo e poker personale servito per il numero 8 che vale il 4-0 per il Baranello. La gara sembra ormai in ghiaccio ma c'è il tempo per il gol della bandiera giallonera di Colonna che fa centro in diagonale dalla sinistra e per il definitivo 5-1 del Baranello con una torita di Massimi che spedisce alle spalle di sedile nel tentativo di anticipare Cappelletti. Alla fine si brinda in casa Baranello che conquista tre punti d'oro per la lotta salvezza ricacciando a meno 7 il petacciato che incappa nella dodicesima sconfitta su 15 partite e spera che il nuovo anno porti un po' di luce in fondo al tunnel.